Un progetto pilota per ridisegnare i trasporti in Abruzzo, ma l'obiettivo non sarà quello dei suoi collegamenti, bensì tutti i servizi che ruotano intorno. Si chiama Information Technology, ovvero la possibilità di avere accesso ad ogni informazione riguardante il luogo interessato, mediante smartphone. Tutto a portata di telefono, insomma. A partecipare al progetto la Regione Friuli, che spiega come in questi anni si sia evoluto il modo di viaggiare. C'è un deficit sicuramente sotto il profilo dello sviluppo dell'Information Technology, e quindi nel fornire l'infomobilità ai cittadini, che spesso è garantita in misura parziale o locale. All'interno di questo progetto andiamo a cercare di fornire degli strumenti che possono poi essere sviluppati delle singole regioni dell'area affinché ciascun utente in possesso di uno smartphone possa accedere in tempo reale alle informazioni per accedere ai singoli servizi di trasporto e quindi trovare nell'intermodalità una modalità di viaggio realmente alternativa e competitiva rispetto all'autovettura propria. La Regione Abruzzo, per tutta risposta, chiama in raccolta gli stakeholders, ovvero gli investitori, e lo fa senza chiedere loro un euro. I fondi arrivano dall'Europa, a loro invece spetta il compito di pensare a quali servizi sarebbero necessari sul proprio territorio. Il contro di oggi era quello di coinvolgere gli stakeholder locali, quindi tutti gli operatori su e di settore, a darci la loro opinione su un progetto che è stato sviluppato, un progetto di cooperazione trasfondraliera che apre l'Abruzzo verso i Balcani e comunque verso l'Ereticef, che al momento non includono la Regione Abruzzo, ma dovrebbero includerlo. L'obiettivo suo della Regione Abruzzo è quello di potenziare, ovviamente questo si occupa di passeggeri, lo sviluppo portuale, quindi l'aumento del numero di passeggeri che transitano nei nostri porti, perché la Regione Abruzzo per la sua proprio dislocazione geomorfologica è una Regione che deve essere premiata da un punto di vista trasportistico, perché si trova sia nella rete autostradale dell'Adriatico ed è di facile connessione con Roma, quindi può aprire i Balcani sia alla Regione Abruzzo stessa ma anche a Roma.